Questa è Piazza del Municipio, ci stiamo avviando verso Piazza Cavour. E' un bel vicolino questo. C'è un bar ma è chiuso, evidentemente la domenica è giorno di riposo. Stiamo andando sul corso principale di Varcelli, che è il Corso Libertà. Lo attraverseremo, dopo magari faremo vedere qualche dettaglio in più del corso. Questo è il corso, mi si presenta stamattina alle 9. E questa è la Piazza Cavour, dove vediamo già gli sponsor che sono lì in bella vista. Insomma, se noi andremo a fare l'iscrizione, faremo vedere la piazza com'è. Piazza Cavour, alle ore 9 di stamattina domenica. Ecco qua. Ecco il Monumento a Cavour. Quella dietro là è la Torre dell'Angelo di Varcelli, sempre. Ed ora noi andremo a fare l'iscrizione per questa camminata. Grazie. 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 Grazie.